Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, andiamo a vedere con il video di oggi le energie disponibili per quello che riguarda il lavoro per il mese di aprile. Vi lascio comunque il minutaggio sotto nella descrizione. Iniziamo con il segno del toro. Andiamo a vedere per il lavoro come si muoveranno le energie. Io ragazzi come vi dico sempre le letture sono collettive quindi è facile che non risuoni tutto. Per cui prendete quello che vi serve e lasciate andare al resto l'universo. Se non doveste risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi trovate il link al corso gratuito di Tarocchi e anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un otto di coppe, un tre di pentacoli, un otto di pentacoli e un tre di bastoni al contrario. Che interessante ragazzi? 8, 8, 3 e 3. Queste due sono girate al dritto e queste due sono girate al contrario. È come se ci fosse una sorta di inversione di corrente a metà mese. Dunque partiamo con l'otto di coppe. Allora l'otto di coppe è una carta che parla normalmente di una ricerca spirituale, anche di un viaggio a livello fisico, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un viaggio di lavoro, ma è più, se non fosse appunto uno spostamento fisico, una ricerca interna per probabilmente iniziare questo nuovo progetto o portare avanti questo nuovo progetto. Quando c'è il tre di pentacoli si parla sempre di una persona che ha tutte le doti, tutte le risorse e anche gli strumenti per far fronte a questo tipo di progetto, piuttosto che collaborazione, piuttosto che gruppo. Però la persona non ha molta fiducia in sé ed è un po' quello, sento, il motivo per cui c'è questo otto di coppe, come se dovesse veramente ricercare la vostra forza interna. Vi dico, poi abbiamo anche un otto di pentacoli al contrario e il tre di bastoni al contrario, quindi ho come la sensazione che in realtà poi non ci sia, scusate un due di bastoni, non ci sia una reale visione del futuro. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, andiamo a vedere l'otto di coppe, nove di pentacoli, quattro di pentacoli. Allora, sono due carte di pentacoli, quindi devo dire che può tranquillamente avere a che fare con non tanto il lavoro insieme a una questione economica, quindi magari il lavoro è la conseguenza della vostra stabilità economica in questo momento. Devo dire che con questo nove di pentacoli c'è comunque, qualcuno potrebbe essere autonomo, quindi si parla di indipendenza, si parla di qualcuno che è attaccato anche alla propria indipendenza, al proprio pacchetto clienti, mi viene da dire, perché comunque probabilmente si è fatto un lavoro per creare questa base, diciamo, solida di clienti. E può essere che vi lasciano un po' perplessi le collaborazioni. Andiamo a vedere il tre di pentacoli. Quattro di bastoni, la luna e il sole, ragazzi. O come è l'idea che potrebbero offrirvi un contratto, una collaborazione, un aiuto? No, forse siete più voi che darete un aiuto. C'è qualche cosa legato a una collaborazione, a un contratto, potrebbe anche essere, a un nuovo tipo di lavoro, può essere una nuova sede anche di lavoro, magari qualcuno verrà messo a gestire una filiale staccata rispetto all'azienda, dove potenzialmente con il sole le probabilità di espansione sono forti, però ragazzi voi qui avete questa luna che un po' vi fa tornare a galla determinate paure. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Fante di coppe e mondo. Voglio andare a vedere anche questo due di bastoni. Re di pentacoli e regina di bastoni. Allora, ragazzi, ad aprire per molte persone sì che ci sarà un viaggio, perché abbiamo anche la carta del mondo. Potrebbe anche non essere un viaggio, perché qui abbiamo la carta del lavoro, quindi per qualcuno implica il viaggiare per lavorare, per qualcuno è il devo spostarmi proprio di residenza, perché abbiamo il mondo, per riuscire ad affrontare questo lavoro, a far fronte al lavoro. Per qualcuno invece sento che è un viaggio che sarà al di fuori invece del lavoro. E' come se fosse un viaggio per schiarirsi le idee, per riuscire a trovare il proprio potere personale. E' un po' la sensazione che ho anche con l'otto di coppe, ok? Però ragazzi, comunque avete il mondo. E' una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di risultati. Avete diversi arcani maggiori, devo dire. E poi alla fine della lettura abbiamo quest'ora di pentacoli e la regina di bastoni, che allora, per qualcuno potrebbero essere due persone, però io ho come la sensazione che sia una sorta di apertura, cioè di consiglio per aprire gli occhi per voi. Nel senso che è un po' come se vi dicessero, voi non state valutando o vedendo quello che è uno, quello che avete già in vostro possesso, quindi tutta questa parte qui, le persone che sono vicino che potrebbero aiutarvi e soprattutto la vostra capacità di far funzionare le cose, la vostra capacità di mediare, la vostra capacità di attirare clienti, mi dicono. Interessante. Andiamo a vedere, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ragazzi, se state cercando un lavoro, si potrebbero aprire delle novità. Questa è una carta di contratti. Il fatto che il lotto di pentacoli sia a rovescio, ho come la sensazione che potrebbe essere, diciamo, un lavoro o a intermittenza, soprattutto se siete autonomi, potrebbe essere un lavoro, non lo so, magari a contratto, però senza impegnarvi tutto il giorno o tutti i giorni della settimana. Però la vedo bene, eh. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Guardate, carta numero 18, serendipità. Questa è la carta della fortuna, è un quadrifoglio, ok? È trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. È la carta della sincronicità. Guardate, amici del toro, aprile ci saranno varie occasioni, per qualcuno si tratterà di spostarsi o di spostare l'attività, insomma, di iniziare una collaborazione, ci sono dei contratti, quindi se siete in attesa di, appunto, ampliare, quindi fare nuovi contratti con dei clienti, piuttosto che, se siete senza lavoro e state cercando lavoro, aprile può essere un mese proficuo, diciamo la prima parte di aprile. Bene, amici del toro, io spero che la lettura vi sia stata utile, se vi è stata l'ispirazione potete comunque mettere like, potete iscrivervi, condividere, da oggi se volete potete anche abbonarvi, e nella sezione degli abbonamenti c'è tutta una parte dedicata alla crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere rimasti fin qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della Vergine, andiamo a vedere anche per voi che aria tira ad aprile nel lavoro. Ragazzi, come dico, sempre le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non doveste risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire questi più oroscopi, tre, due o tre oroscopi, insomma, dipende quanti ne ascoltate. E trovate anche il link al corso gratuito di Tarocchi e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow! Allora, imperatrice, sette di coppe, sette di bastoni e cinque di spade. La carta dell'imperatrice è una carta che parla di abbondanza, è una carta che parla di crescita, di progetti nuovi, di gestazione, per qualcuno anche di capi, ok? E se avesse un'azienda familiare potrebbe essere una madre. Comunque qualcuno, diciamo, più in alto di voi. Potrebbe essere una persona o un ruolo. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini Tarocchi. Però devo dire che nella prima parte di aprile c'è espansione allo stato puro. Abbiamo poi due sette, un sette di coppe e un sette di bastoni. Allora, sette di coppe parla di opportunità che potenzialmente si possono aprire. Tenete presente che comunque l'imperatrice è una carta di espansione, quindi può anche essere che semplicemente inizierete a valutare possibilità di espansione, possibilità diverse di crescita, lavori diversi magari. Se state cercando lavoro è un po' come espandere il raggio d'azione, provare a mandare il curriculum in aziende dove prima non avreste mai osato. E poi abbiamo questo sette di bastoni. Il sette di bastoni è una carta che ho l'idea insomma che nella seconda parte di aprile potrebbero esserci dei conflitti, più che altro perché vi sento difendere con le unghie e con i denti i vostri progetti, le vostre idee. E il cinque di spade, appunto, potrebbero essere dei litigi che magari avete con dei colleghi o cose di questo genere. Fate attenzione perché molte volte parla anche di confusione mentale. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere l'imperatrice cosa ci dice. Abbiamo un dieci di pentacoli al contrario, un sei di coppe e la sacerdotessa. Wow! Allora, potrebbe essere sì per qualcuno la mamma perché abbiamo il sei di coppe, mentre per qualcun altro magari un ruolo o un collega o una collega con la quale sento che Allora, avere il dieci di pentacoli al contrario mi dà l'idea che con questa collega o non è di famiglia, nonostante il legame sia come un familiare, scusate, il legame affettivo intendo, oppure è una persona con la quale magari non vi trovate proprio benissimo, però comunque una persona che conoscete da tanto tempo. C'è un sei di coppe. Per qualcuno invece il sei di coppe fa riferimento a questo sogno, a questo nuovo progetto che state gestando, che state creando. Può anche essere che sia una cosa del tutto vostra di cui il gruppo lavorativo magari di cui fate parte non sa niente e può essere un sogno proprio tutto vostro che state cercando di mettere... Perché comunque io il gruppo lavorativo ce l'ho, eh? Quindi è un po' come se fosse qualcosa di staccato da questo gruppo. E per qualcuno, visto che il dieci di pentacoli parla di contratti quando è al dritto, ho come la sensazione che qualcuno deciderà di rompere qualche contratto probabilmente lavorativo per andare verso i propri sogni, per creare il proprio progetto personale. Andiamo a vedere questo sette di coppe. Uh, queste sono cadute, ragazzi. Wow, quattro di bastoni, che è una carta di stabi... Wow! Ma che bello! Quattro di bastoni e nove di pentacoli, ragazzi. Stabilità, armonia, festeggiamenti, contratti. Quindi, sì, qualcuno deciderà di mettersi in proprio, di aprire la propria attività, di dar forma a quel progetto, a quel sogno che magari è tanto tempo che si sta valutando, insomma. Tenete presente che adesso sono cambiate le conformazioni planetarie, conformazioni, non so se si dica così, Comunque, la posizione dei pianeti lenti sta cambiando in questo 2023 in modo abbastanza importante, quindi è un periodo di forti cambiamenti un po' per tutti, eh. Andiamo a vedere il sette di bastoni. Però, guardate, bellissimo. Allora, abbiamo un re di pentacoli e il contrario, e la carta della morte, sì, infatti. Ho come la sensazione che questo re di pentacoli sia collegato a questo dieci di pentacoli. È come se vi dovesse staccare, appunto, dal gruppo, dalla mentalità familiare, dall'approvazione di questo re, ipotesi, perché comunque avete la carta della morte. Qui c'è da buttare giù qualche questione, qualche persona, da tagliare qualche credenza, anche qualche abitudine, per rinascere, per rigenerarsi. Andiamo a vedere il cinque di spade. Uh la la. Allora, fante di spade, la giustizia e la ruota della fortuna. Ragazzi, meglio di così non può andare. Ve lo dico. Avete contratti, abbondanza, prosperità, denaro che arriva, indipendenza economica, appagamento. C'è solo quest'ora di pentacoli che potrebbe essere un ruolo per qualcuno, per qualcun altro una persona fisica, però c'è da staccarsi da questa persona, perché ho come la sensazione che dobbiate difendervi da questa persona. Non tanto nel senso che vi attacca, ma nel senso che dovete giustificarvi con questa persona. E questo cinque di spade, insomma, alla fine non ha motivo di esserci. Se voi avete comunque questo progetto che sognate da tanto tempo, farvi venire dei dubbi, tenete presente che avete ruota della fortuna e giustizia. Ragazzi, sono due carte di destino. Avete un 4 di bastoni, che è un 6 di coppe, quindi vi dico, per molte persone il tipo di relazione che si è instaurato tra voi e l'altra persona potrebbe essere una relazione da anime gemelle. Sapete che per me le anime gemelle non sono solo quelle romantiche, ma possono essere anche fratelli, colleghi, persone che ci accompagnano nella vita e che ci fanno crescere. Quindi, avendo queste due carte, a parte le botte di fortuna che avrete, perché con la ruota della fortuna si parla, anche qui avete 9 di pentacoli, abbondanza economica questa sì, la vedo. Qualcuno potrebbe anche venirvi in aiuto senza che voi ve lo aspettiate. La giustizia è un'altra carta di contratti, se qui per esempio c'era un preaccordo, qui potreste firmare un contratto, ma avendo il fante di spade, ragazzi, fate attenzione alle cose scritte in piccolo, perché la ruota della fortuna è normalmente una bellissima carta, ma ricordatevi sempre, io la sento molto collegata con la carta della giustizia perché rappresentano un po' la dea bendata. E non sempre, diciamo, la giustizia divina agisce in modo corretto, apparentemente corretto, perché poi se la giustizia divina è corretto, ma a noi può sembrare scorretto. Quindi, visto che c'è un fante di spade, che è una carta che invita a controllare bene tutto, per filo e per segno, di informarsi, perché qui c'è confusione mentale. Quindi può anche essere che se vi fanno questo preaccordo, questa offerta, così c'è da valutare veramente bene, da staccarsi da certe idee. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo. al mare. Allora, è una carta numero 7, ve la metto qui in mezzo a questi due 7, quindi 7, 7, 7. Cercate numero angelico 7, numero magico 7, cercate significato simbolico 7, così vi dovrebbero dare un po' tutti i significati. Questa carta a me fa sempre venire in mente che non è tutto come si vede, no? Perché comunque qui la superficie dell'acqua è piana, è calma, però tutti sanno che sotto, nel profondo, ci sono delle correnti molto forti, ok? Quindi, diciamo che avete anche un po' il 7 di coppe che ve lo dice di fare attenzione un po' a quelli che potrebbero essere le illusioni, perché è vero che il 7 di coppe è sempre una carta che apre possibilità, ma è anche una carta che, come vi posso dire, crea sì delle illusioni, perché non tutte le possibilità che si aprono in realtà poi sono fattibili, sono concretizzabili, ok? Amici della Vergine, fatemi sapere come vi risuona la lettura, spero che comunque vi sia stata utile, se sì potete mettere like, potete iscrivervi, condividere da oggi, potete anche abbonarvi al canale, e nella sezione degli abbonamenti ci saranno dei video esclusivi che parleranno principalmente di crescita personale, di energie, di metafisica, del perché delle cose, insomma. Sto cercando di fare una sorta di carrellata generale per dare una spiegazione un po' più ampia a molte cose che accenno durante l'elettore dei tarocchi, insomma. Spero che possiate apprezzare anche questo sforzo. Io vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti agli amici del Capricorno, come dico sempre le letture sono generali, sono fatte per un collettivo ragazzi, quindi è facile che ne risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non riuscite a far vibrare nulla con la vostra realtà o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Ragazzi scusate, faccio fatica a dire la frase perché guardate, cioè due di coppe, asso di coppe, asso di spade, voglio dire. Va bene. Per chi invece volesse contattarmi trova il mio indirizzo email o qui o sempre sotto nella descrizione dove ci sono altri video super interessanti. Wow! Ragazzi, allora, devo dire che aprile sarà un mese con grosse novità. Il due di coppe è vero, normalmente è un accordo di tipo emotivo, ma può anche essere, visto che comunque questa è una lettura di lavoro, un accordo tra due amici, tra due fratelli, ok? Come se fosse un incontro per magari iniziare qualche progetto nuovo, per iniziare qualche questione. Sì, per far nascere qualcosa di nuovo, per concretizzare qualche idea. Per qualcuno potrebbe anche risuonare come, io ve lo dico, una storia romantica nel lavoro, eh ragazzi, nell'ambiente lavorativo. L'appeso, ecco, l'appeso a fine estesa, girato al contrario, è quello che mi fa proprio dire che ci sarà una svolta, perché è una carta di sblocco. Abbiamo poi anche la regina di spade al contrario e il carro al contrario. Vediamo che cosa si sblocca dopo, ok? Ok, va bene, andiamo a vedere carta per carta con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo la carta dell'imperatrice, un sette di bastoni. Sì, può essere un incontro tranquillamente per chiarirsi, per progettare qualche cosa di nuovo, per regolare i conti, mi viene da dire. Però ho come la sensazione che sia di più per far nascere qualche cosa di nuovo, perché comunque qui abbiamo due assi, ragazzi. E qui abbiamo l'imperatrice che è una carta di progetti. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Allora, abbiamo nuovamente un asso di spade, al contrario. Ruota della fortuna, al contrario. Sei di coppe e nove di pentacoli. Wow! Quindi avete tre assi e la ruota della fortuna, ragazzi. E l'ha appeso. Quindi sì, ad aprile è proprio come se ci fosse un punto e a capo. È vero che avete la ruota della fortuna, al contrario, ma ho più la sensazione che sia qualcosa che appunto sta iniziando a prendere forma, non si è ancora concretizzato. Due di coppe, ruota della fortuna e sei di coppe, ragazzi. Per qualcuno veramente potrebbero essere anime per destino, anime gemelle. Sapete che, guardate, essendo uscito il due di coppe, potrebbe essere proprio un'anima gemella a livello romantico, ve lo dico. Ma non è detto. Però, comunque, vedo tanta indipendenza con questo nove di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un nove di spade al contrario, un otto di coppe al contrario, la regina di pentacoli e un tre di bastoni. Sì, ho come la sensazione che qui l'emozione del primo periodo di aprile sarà molto forte, sarà molto bella. Ci sarà questo nuovo inizio, appunto, questa nuova forma di essere indipendenti. Per qualcuno si tratta magari di un aiuto, da un punto di vista proprio pratico. Ma con questo asso di spade, il nove di spade al contrario, l'otto di coppe al contrario, c'è bisogno ancora di mettere i puntini su lei. C'è bisogno di chiarire delle questioni su chi fa che cosa. Ma non solo nel qui e ora, anche nel futuro. Perché le cose potrebbero cambiare. È un po' come se vi dicessero, valutate bene, appunto, di chi è la responsabilità. Soprattutto nel caso dobbiate iniziare una nuova collaborazione tra soci. Andiamo a vedere questo appeso. Sole al contrario. Wow, carro al contrario due volte, ragazzi. Allora, qualcosa che si sblocca c'è, perché abbiamo l'appeso al contrario. Il punto, ho come la sensazione che qualcuno non se ne debba più andare. Perché abbiamo il carro al contrario due volte. Oppure, visto che comunque c'è sia l'imperatrice al contrario, solo il contrario, due carte di movimento che sono girate al contrario. Oppure, come se qualcuno non riuscisse ad espandersi come ci si aspettava. E' quello che vi dico. Bisogna mettere i paletti su chi fa che cosa, ok? Vi andrò a vedere questo carro al contrario. Sette di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che quel chiarimento, questa discussione, può far venire a galla questioni inerenti al futuro che fino a prima non si erano prese in considerazione che vi facciano cambiare il vostro punto di vista più che sbloccare e che quindi decidiate di non procedere in questa nuova collaborazione. O comunque vi sento molto più guardinghi perché anche avete la regina di spade al contrario che parla molte volte di confusione mentale o di qualcuno che tende un po' a forzare quando ci sono delle forzature quando vi mettono fretta o quando vi obbligano a scegliere normalmente c'è un sottofondo di manipolazione quindi è meglio lasciar perdere a quel punto lì. Fatemi sapere come vi risuona. Ragazzi, nel caso fosse una promessa di un lavoro ho come la sensazione che vi rendete conto che ve l'hanno venduta un po' diversa da quello che in realtà è e verso fine mese ve ne renderete conto. Andiamo a vedere ancora un'ora. Sì, sento come un'inversione di rotta, ragazzi, ve lo dico. Casa dolce casa, carta numero 50. Allora, per qualcuno si tratta di ritornare a casa può essere una situazione che ha a che vedere con una casa o casa nel senso di famiglia però come l'idea, sapete quando si dice che non c'è niente per piccina che tu sia c'è un proverbi, un detto casa mia, casa mia, per piccina che tu sia sei pur sempre casa mia nel senso che per quanto lo spazio vitale di una persona sia piccolo però è la propria zona di comfort ed è un po' come la sensazione che qui dobbiate ricercare la vostra zona di comfort quello che a voi fa sentire a casa fa sentire al sicuro. Fatemi sapere, amici del Capricorno, come vi risuona io spero che comunque la lettura vi sia stata utile se sì potete mettere like, iscrivervi, condividere scusate, da oggi potete anche abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonamenti parlerò di temi di crescita spirituale principalmente metafisica, andremo a vedere il perché di molti fattori, del perché si attirano sempre le stesse persone insomma cose di questo genere spero che possiate apprezzare anche questo tipo di sforzo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao